tanta gente anche adesso in chat soluzioni concrete dacci le soluzioni io non sono il salvatore gente, dovete togliervelo dalla testa quello che va fatto è capire che questo sistema al quale le persone stesse ci hanno fatto arrivare fa schifo bisogna staccarsi da questo sistema di M una volta fatto quello si costruisce un nuovo sistema dove non comandano i potenti ma comandano i cittadini non dare il potere più a una sola persona ma ogni persona ha il potere su se stesso finché le persone non capiranno questo staremo sempre in questo stagno di pupù è vero sì 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 perché è una domanda ricorrente e doverosa fate benissimo se non avete mai sentito questo tipo di risposte fate benissimo è una domanda molto ricorrente che vedo piovere un giorno sì l'altro anche ne ho fatto un video intero ne parlo molto molto spesso tanto è che ho iniziato a fare tanti video ad esempio quello sull'MK Ultra inizio parlando della soluzione così già io metto le mani avanti pensate un po' no giusto per farvi rendere conto con Vincenzo ne abbiamo parlato ne abbiamo riparlato quindi va bene siete nuovi non l'avete mai sentito lo ripetiamo però vi dico va benissimo cioè non è che mi dà fastidio no anzi va benissimo però vi deve entrare in testa perché è molto importante e come sembra impossibile dovete fare anche voi il vostro sforzo attenzione perché noi vi possiamo indicare la via come disse Matrix 1 vi possiamo indicare la porta siete voi che dovete oltrepassarla perché se no siamo qua a ripetere sempre le stesse cose non è neanche produttivo per quelli che ci seguono da tempo che sia chiaro allora come diceva Vincenzo dobbiamo fare il nostro lavoro fare il nostro salto evolutivo e parte principalmente dalla rivoluzione della percezione quindi comprendendo chi siamo e il nostro potere la nostra responsabilità perché se non comprendiamo queste cose non c'è un un cambio di percezione se noi ci continuiamo a identificare come l'io come Davide Giuseppina Anselmo non funziona niente perché ci identifichiamo come delle gocce quando invece siamo l'oceano loro ci hanno programmato per farci credere di essere delle gocce essere impotenti vittime quando è tutto invece l'opposto non siamo individuali così come nella nostra realtà illusoria sembrerebbe siamo un tutt'uno con tutto il resto siamo uno siamo l'oceano il potere è nelle nostre mani non è che io sono da solo che cosa posso fare guardate che cosa possono fare piccoli esempi piccoli grandi esempi che da soli riescono a coinvolare un sacco di persone e potenzialmente possono creare veramente delle grandi cose può essere un Vincenzo come io nel mio piccolo ho altri nomi che non so neanche a fare questo è il potere che tutti noi abbiamo cioè ognuno di voi se si sforza a divulgare a parlare con il prossimo sta come l'effetto frafalla sta influendo è un effetto domino c'è anche il fenomeno della centesima scimmia sono tante leggi della natura cosmiche a nostro favore che stanno influenzando sul risveglio ora arrivo alla soluzione ora arrivo alla soluzione però questo è fondamentale perché noi finché ci identifichiamo come un nessuno come una vittima uno che non può fare nulla perché il potere è troppo grande ma è tutto il contrario il potere è troppo grande è quello del popolo unito della massa critica è questo il potere però ci hanno convinto del contrario ci hanno convinto che siamo vittime ci hanno convinto che siamo tutti dei fanulloni ci hanno convinto che siamo destinati tutti al fallimento a essere succubi schiavi eccetera quindi l'evoluzione la rivoluzione della percezione è fondamentale non cercare di cambiare il panorama lo sottolineo non puoi cercare di cambiare il panorama devi cambiare il modo di vederlo e poi le cose iniziano a cambiare quindi prima c'è questa evoluzione all'interno di noi stessi è per questo che si dice che il cambiamento parte da noi stessi per poi vederlo al di fuori per tanti motivi vi sto accendo una cosa abbastanza superficiale come interpretazione le soluzioni come dicevo sembrano impossibili ma sono molto vicine a noi soprattutto oggi ok perché abbiamo la massa critica l'abbiamo già abbiamo già raggiunto anche miracolosamente con questo risveglio collettivo che è accelerato abbiamo sempre più persone sveglie benissimo quindi siamo già a metà dell'opera abbiamo già le persone sufficienti per cambiare le cose è che purtroppo questo oceano è ancora si identifica come una goccia principalmente e prima di tutto cosa manca ancora manca il coraggio la coerenza quindi l'unione di intenti la comunione di intenti e la coerenza verso un unico obiettivo consapevoli del nostro potere di che cosa possiamo fare la soluzione è semplice ma già la sapete è inutile che ve la dico è come un dente marcio tu puoi costruire intorno al dente marcio quel cavolo che vuoi ma avrai sempre male o sbaglio cosa devi fare ti levi il problema al radice dal momento che ti levi il problema alla radice che cosa fai andrai a costruire qualcosa di nuovo questo dobbiamo fare dobbiamo toglierci tutti i poteri corrotti partiamo dal nostro piccolo dall'Italia per poter costruire quel cavolo che vogliamo che sia veramente costruttivo etico giusto per tutti e chiudo uno dei più potenti mezzi di influenza sono appunto i mainstream i mezzi di comunicazione e con quelli loro fanno il lavaggio del cervello creano i film le narrative la gente ci crede fa il lavaggio del cervello letteralmente alla gente perché la tv è un ipno programmatore se noi arrivassimo come dicevo a togliere dalle balle tutta sta gente corrotta che lavora per quest'elite se arrivassimo ai mezzi di comunicazione riusciremmo a salvare anche quelli che sono dati perspacciati perché con i mezzi di comunicazione possiamo fare il lavoro contrario quindi andando a informare e a indirizzarli verso la retta via perché purtroppo sono programmati per rispondere solo alle uniformi i men in black e alla scatolina nera alla tv più o meno ho detto tutto però partite dal vostro lavoro personale esatto sì ci vogliono tante persone singole che si rifiutano e che sono consapevoli di loro stessi e di quello che li circonda non tante pecore che seguono una persona ma tante persone responsabili autocritiche e che si rendono conto della situazione che insieme hanno un pensiero collettivo non guidate da una persona ma tante con lo stesso pensiero è questo il cambiamento che va fatto e non seguire tizio caio ciuffo biondo e l'altro perché se no torniamo sempre punta a capo se poi quella persona viene corrotta o non c'è più che cosa si fa anche quel discorso che ho letto in chat è giustissimo tipo Giordano Bruno e Gandhi erano da soli ma loro erano dei simboli e quelle persone lì hanno creato una reazione nelle persone non è che hanno fatto tutto loro è perché dietro a loro c'erano tante persone che poi si sono svegliate quindi io non voglio fare il megalomane però quello che stiamo facendo io e Davide non è a livelli di Gandhi Giordano Bruno però noi portandovi le prove vi dovrebbe scattare nella mente a voi a tutti quanti gli altri rendervi conto quello che stanno vivendo quello che stanno programmando quello che vogliono fare quello che faranno non faranno hanno intento e grazie a questo magari si scatena poi una reazione per questo molta gente quando vede i miei video o quelli di Davide o vede le diretti dice no vabbè ma serve diffondere il panico non è diffondere il panico serve per creare una reazione grazie a tutti grazie a tutti